Una pompa di calore da 20 kilowatt e io che cammino in mezzo alle vigne, cosa c'entrano? E beh, oggi ti porto a vedere un impianto realizzato in pompa di calore per un'azienda agrituristica che ha deciso di investire sulla pompa di calore per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria per i nuovi alloggi turistici che ha fatto realizzare. Bene, allora dopo la sigla ti presenterò l'impianto e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Siamo nel Trevigiano e un'azienda agrituristica ha deciso di realizzare degli alloggi per i propri ospiti. Producono anche del vino, del prosecco, come puoi vedere qui alle mie spalle, ma soprattutto hanno realizzato delle camere, una sala convegni e tante altre cose. Ma questo te ne parlerò insieme a chi ha realizzato l'impianto. Cosa faccio io se non mi conosci già? Ecco, sono Samuele, sono un ingegnere meccanico che già dal 2012 si è specializzato nel mondo delle pompe di calore e aiuto le famiglie a vivere senza gas, quindi a staccare il contatore del gas per trasformare la loro casa in 100% elettrica. Lo faccio attraverso una rete partner Sigillo Sicuro, di cui anche Edio, che conoscerai tra poco, fa parte. E anche tu, se vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, staccandoti per sempre dal contatore del gas, beh, vai nel link che trovi nella descrizione del video. Andiamo ora a vedere cosa è stato realizzato. Ciao, allora ti presento Elio che ha realizzato questo impianto, questi alloggi agrituristici. Questa è l'unità esterna, quindi la macchina che va all'esterno, che produce acqua calda, acqua fredda d'estate, perché facciamo anche il raffrescamento, ed è stata collegata con la centrale termica, che ti farò vedere dopo, attraverso delle tubazioni ad acqua che passano sotto il marciapiede e, come vedi, poi è stato ricoperto da una lamiera di cortena, perché tutto il contesto, una volta realizzato, sarà veramente molto, molto bene. Elio, tanto grazie della fiducia, insomma, di aver realizzato questo impianto, piuttosto impegnativo. Di solito facciamo video sempre nelle case residenziali, nelle billette autonome. Qui siamo invece in un'azienda agrituristica dove abbiamo diversi alloggi. Di che cosa si tratta, giusto per far capire il contesto? Siamo praticamente in una situazione di alloggi agrituristici, dove ci sono già delle palazzine dedicate a camere e a mini appartamenti e qui hanno sviluppato praticamente altre otto camere con una sala a colazione nuova, con più sale a riunioni per catering, eccetera. E ho sviluppato di testa mia e insieme con il perito di Vittorio Veneto abbiamo sviluppato questo tipo di impianto. E che adesso magari vediamo, insomma, in centrale termica. Demolta, eccoci in centrale termica, quindi il cuore dell'impianto che è collegato con l'unità esterna che abbiamo appena visto. E Elio, come viene gestito questo impianto? Come viene riscaldato e raffrescato? Allora, diciamo che l'affrescamento e il riscaldamento viene effettuato tramite dei semplici ventili. Dei ventili perché essendo alloggi agrituristici c'era la necessità di riscaldare velocemente perché non si sa che magari il cliente arriva all'unico momento. Certo, si era paventato all'inizio di fare l'impianto a pavimento, radiante a pavimento, ma è stata scattata proprio per questo motivo. Poi ho visto un impianto di VMC, quindi ventilazione meccanica controllata, che si. Questo l'abbiamo fatto solo nella sala multifunzione, quindi sala colazione e sala riunioni, proprio per dare un ricambio d'aria quando ci sono tante persone. Bene, adesso ti descrivo punto per punto la centrale termica perché è fondamentale conoscere i componenti della centrale termica. Quando chiedete un preventivo per una pompa di calore, non basta fermarsi sul prezzo della pompa di calore perché vai su internet e trovi di tutto, su Amazon, su eBay, trova prezzi e quant'altro. Ma come vi, la centrale termica è composta da tante cose da mettere insieme perché funziona l'impianto. Questo a prescindere, ecco, se ci fosse una caldaia o una pompa di calore, ma nel momento in cui si realizza un nuovo impianto, o si va a fare un retrofit di un impianto esistente, è bene riprendere in mano tutto perché possa durare ancora 30-40 anni, come è durato quello precedente. Bene, allora ti racconto per filo per segno dal collegamento alla pompa di calore fino al ventile finale. Allora, intanto come primo impatto ci sono tre macroelementi. I due accumuli che vedi piuttosto importanti, c'è un buffer di acqua tecnica, quindi l'acqua che girerà nei ventili, calma, fredda, e poi c'è il bollitore sanitario, cioè dove abbiamo l'acqua sanitaria per questi allungi. Come vedi è piuttosto importante, stiamo parlando di un accumulo quasi da 1000 litri perché ci sono otto camere più la cucina e più la sala. E poi il terzo macroelemente sono le pompe di rilancio, cioè le pompe che fanno girare l'acqua all'interno dell'impianto. Quindi prendono l'acqua da questo buffer di acqua tecnica e la portano nei ventili. Mentre per il bollitore, dopo scontato, ma giusto per chiarire le idee, non serve una pompa perché l'acqua essendo già in pressione dall'acquedutto, l'acqua esce dai rubinetti da sola, da questo accumulo sanitario. Bene, dove arriva la pompa di calore? Come abbiamo visto prima, è appena fuori dal muro, ci sono due tubazioni piuttosto importanti perché è una pompa di calore da 20 kW, quindi stiamo parlando di tubazioni importanti, come vedi anche la centrale termica, applicazioni d'acqua alta, l'acciaio e iogs, perché possono durare veramente tanto nel tempo, soprattutto se stiamo facendo un impianto che fa sia caldo che freddo, quindi ci sono condizioni estremamente diverse d'estate e di l'uvera. Un po' di calore arriva da qui, ci sono due tubazioni isolate, arrivano sotto il pavimento e poi c'è una valvola 3D, cioè una valvola che decide se fare acqua tecnica per raffrescamento ad esempio in questo momento, oppure acqua sanitaria per l'uso dei ruminetti e delle rocce. Non lo decide la valvola 3D naturalmente, ma la centralina che gestisce tutto l'impianto, dando sempre priorità l'acqua calda sanitaria, perché è quella più importante. Qui c'è una... e ho voluto fare questo video per farti vedere una cosa molto interessante. È stato fatto il collegamento al buffer idraulico particolare, con lo scambio dei collegamenti tra sopra e sotto. Avendo dei ventili e un buffer da 300 litri, è fondamentale stratificare l'acqua affinché i ventili funzionino nel miglior modo possibile. Cosa voglio dire? D'inverno questo buffer sarà caldo, a 40, 45, 50 gradi, dipenderà insomma anche dalla temperatura esterna e non solo, e l'acqua calda stratificherà dal basso verso lato, avendo la parte più calda verso l'alto. D'estate è l'esatto contrario, avendo l'acqua fredda per i ventili, l'acqua più fredda sarà verso il basso. E per questo, con queste valvole a tre vie, andiamo sia con la pompa di calore ad invertire la mandata con ritorno, quindi d'estate la mandata è verso il basso e ritorno verso l'alto, viceversa d'inverno la mandata è verso l'alto e ritorno verso il basso, ma stessa identica cosa lo facciamo anche in lato impianto, cioè lato prelievo verso le pompe di circolazione, perché andiamo a prelevare, per non mandare l'acqua verso i ventili, l'acqua più fredda possibile, cioè quella verso il basso. E anche qui sono state messe delle valvole a tre vie che permettono questo switch tra estate e l'inverno. Poi, la parte finale dell'impianto prevede appunto queste pompe di rilancio, ve ne voglio vedere una. Sono pompe dirette, cioè non c'è una miscelatrice, essendo dei ventili abbiamo la necessità di mandare l'acqua più fredda possibile e più calda possibile per poter avere la massima efficienza dei ventili come il tuo, che spingono verso le varie zone dell'impianto. Abbiamo la macrozona della sala, della cucina e poi abbiamo due zone, quattro camere e quattro camere. Andiamo poi a lavorare sulla parte dell'acqua sanitaria, quindi la trevia iniziale veria l'acqua verso il bollitore, dove in questo caso abbiamo anche un solare termico, quindi d'estate abbiamo la possibilità anche di fare acqua calda sanitaria gratuitamente con il solare termico e la pompa di calore quasi sempre funziona solo in raffrescamento, perché l'acqua calda sanitaria viene garantita dal solare termico. Avendo un accumulo da mille litri capisce bene che di disponibilità ne abbiamo, anche perché avremo 50-60 gradi che poi miscelati per una doccia a 39-40 gradi iniziano ad essere molto più di mille litri disponibili. L'acqua calda che esce da questo bollitore poi viene distribuita in diverse linee che portano poi a diversi collettori. Ti faccio vedere anche una chicca di elio che cosa ha realizzato per distribuire al meglio anche l'acqua calda sanitaria, che è un dettaglio molto semplice, però non troppo sfondo. Ecco, qui siamo nel collettorio principale e come arriva l'acqua dalla centralità? Che arriva attraverso due tubazioni che poi distribuiscono nelle varie... Cosa c'è qui? Abbiamo un collettore per l'acqua calda sanitaria e anche per l'acqua fredda che viene distribuita proprio per ogni singolo elemento. C'è il bidet, c'è la doccia, c'è il lavantino. Ecco, ogni camera c'è la sua, il modo da poter sezionare in caso di bisogno oppure necessità, insomma, l'elemento singolo. I due collettori, perché ce ne sono due, sono collegati in parallelo anche per distribuire la pressione dell'impianto. Dall'altra parte invece cosa abbiamo? Abbiamo un collettore dell'impianto di riscaldamento e di raffrescamento. Quindi è un collettore che distribuisce attraverso i vari fancoide. Infatti queste sono le tubazioni che arrivano in ogni singolo fancoide. È un collettore in plastica... Dirai perché in plastica? Perché se facciamo raffrescamento è fondamentale non fare condensa. in questi sistemi. Come vedi siamo in fase di collaudo, quindi poi verrà ambientato tutto alla perfezione per evitare qualsiasi tipo di goccia dell'impianto. Il collaudo di pressione è già stato realizzato, quindi l'impianto è idoneo. Adesso stiamo facendo l'acqua fredda per raffrescare, perché tra qualche giorno arriveranno i turisti a riempire questo allungio. Poi, cosa sono questi componenti colorati? Sono dei vasi di espansione, come vedi, che vengono utilizzati sia per il bollitore di acqua calda sanitaria, sia per il buffer di acqua tecnica. C'è la necessità sempre di prevedere questi vasi di espansione in modo che quando l'acqua viene riscaldata lei naturalmente tende a dilatarsi perché più si scalda, più aumenta il suo volume e da qualche parte deve trovare lo sfogo. Cos'è questo vaso di espansione? È un accumulo, te lo faccio semplice e semplice, dove a metà c'è una membrana, c'è una membrana di gomma che si gonfia come una camera d'aria della bicicletta. Cioè, quando la pressione dell'acqua aumenta, questa membrana si dilata in modo da non far aumentare la pressione dell'impianto. Altrimenti le vasi di sicurezza inizieranno a perdere acqua oppure anche le varie giunture tra una tubuzione e l'altra iniziano ad andare sotto sforzo perché la pressione è aumentata. Vasi di espansione serve proprio per compensare questo. Ma perché così tanti e così grandi? Perché sono dimensionati in base all'accumulo di acqua sanitaria in questo caso e di acqua tecnica dell'altro caso. Ecco, quindi in base a quanta acqua c'è dall'impianto è fondamentale dimensionare il vaso di espansione. Poi abbiamo un altro circolatore qui sotto che è la pompa di ricircolo. Siamo in un alloggio turistico, quindi è importante che appena il cliente apre il rubinetto esca l'acqua calda e non restia lì ad aspettare troppo. Cosa possiamo fare? Allora si mette una pompa di ricircolo che fa girare l'acqua attraverso un terzo anello e si appronta sempre lì nel rubinetto. Ma questa pompa di ricircolo costa, costa a livello energetico perché consiglia di avere un anello sempre caldo che soprattutto d'inverno con i muri freddi, insomma, disperda. È come avere un radiatore. Allora Elio cosa ha fatto? Ha messo un termostato che permette di far funzionare la pompa di ricircolo a una temperatura più bassa rispetto a quella accumulata qui. Cosa intendo? Se qui abbiamo 60 gradi, la pompa di ricircolo fa girare l'acqua nell'impianto magari a 38-40 gradi così che il cliente possa avere il beneficio appena apre il rubinetto ma non andiamo a sprecare 60 gradi che sarebbero inutili in un rubinetto, ecco, di una camera. Ultimo, anche se sarebbe il primo, è l'arrivo dell'impianto perché come facciamo riempire di acqua questi accumuli e l'impianto? Tutto arriva dall'acquedotto attraverso queste tubazioni. Abbiamo dei filtri, abbiamo il regolatore di pressione, abbiamo il dosatore con i sospati, abbiamo un addolcitore per tenere l'acqua appunto a un livello di durezza idoneo perché non si rovine tutto l'impianto. Abbiamo anche un lavallo di bypass perché se dovesse rompersi l'adolcitore oppure per qualche motivo dobbiamo metterci in mano possiamo far lavorare l'acqua dell'acquedotto direttamente all'impianto bypassando l'adolcitore. E tutto questo permette di da una parte caricare l'impianto dei venticometti e naturalmente caricare il volitore per l'acqua calda sanitaria che poi troviamo nel docce e anche nei lavori. Bene, Eio, grazie sua di aver realizzato questo impianto. Grazie a te. È veramente un'occasione importante, insomma l'impianto è stato fatto veramente bene e innovativo, nel senso che finalmente si fanno impianti anche senza caldaie. Eh sì. Eio, come vedi, non ha vent'anni e pure ci crede firmamente in queste soluzioni. Certo, certo. E con questo ti salutiamo e ti diamo appuntamento al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.